I rincari di gas ed elettricità e gli investimenti necessari in questa fase di transizione energetica sono al centro dell'intervista all'amministratore delegato di Liquigas, Andrea Arzano. I provvedimenti del Governo per il contenimento dei prezzi dell'energia sono sufficienti? E come sta operando Liquigas in tal senso? Il Governo sta facendo ciò che è possibile in una situazione come questa dove le differenze tra i costi precedenti delle materie prime e quelli attuali sono molto grandi e quindi può semplicemente mitigare l'impatto di questa variazione. Le aspettative devono essere basate sul fatto che ci sia una strategia diversa a livello europea per quanto riguarda la gestione di tutto il mercato dell'energia e quindi anche delle scorte e degli stoccaggi. Per quanto riguarda Liquigas, noi siamo distributori quindi purtroppo subiamo anche noi come i consumatori finali l'impatto di questa variazione. Ora noi abbiamo delle aspettative che questa congiuntura non durerà molto a lungo e quindi ci auguriamo che nella seconda metà del 2022 si possa tornare a livelli di materie prime a prezzi più favorevoli, molto più favorevoli rispetto a quelli di oggi. Rispetto alla transizione energetica, quali sono i programmi dell'azienda? Beh, noi stiamo investendo molto per quanto riguarda la ricerca per produrre carburanti e combustibili sia dal trattamento dei rifiuti organici sia dal trattamento dei rifiuti plastici. Quindi c'è l'aspettativa di produrre dei prodotti che andranno a sostituire parzialmente nel breve, in modo più significativo, nel medio-lungo periodo i prodotti di origine fossile. Come giudica il lavoro di Alice nella sua opera di diffusione della cultura del trasporto? Io direi che è fondamentale. Io ho assistito a dei dibattiti in cui soprattutto manca una cosa fondamentale, manca l'ideologia. E cioè ho sentito gli imprenditori che affrontano i problemi non per delle opinioni o per delle convinzioni, ma con un approccio pragmatico, facendo degli investimenti e contribuendo in modo serio e sostenibile veramente alla decarbonizzazione del sistema paese.